Siete anche l'ovore del pieno, da ieri era una roba con la pioggia. Da 70 anni bisogna ancora tirare le stelle, altro che il trattore che ne tira su mia. Se lei ha finito sotto le crove ha tirato quattro sciù di feng e buttato sulle teleferiche. Questi quattro pobres bestie di vacca che stanno inverno e adesso non c'è davanti a casa, non c'è di ciega più. E alla mattina le tremmi a quattro con la ridola sulle spalle, difficoltà per creare la beccia, e adesso c'è il chai, birra, birerie e alle, birra la spina, birra caduta. Prosecchi, per lì da una piazza dove in bireria si beve la birra, che oltretutto non ne piaceva neanche perché aveva il gusto amaro ma era proprio buono una volta, aveva proprio il malto fuori al canale. che incinde acqua col citrato, che buona, acqua e citrato. aveva proprio il metto su youtube, che aveva molto a vece, se mette a sul car del feng, aveva ancora la valde che aveva. bella bella. caro mio, su youtube avete, va bene. e dopo che ne era? ciao dolomitici. i noni che sei. da riccardo, della val del biois. mi sei una gamela, una gamela di caffè, e dopo, aveva sempre la bottiglia di chiedisea della nina, aveva incidere la gnappa. la nina? la nina di chiedisea, no? sì sì sì, quella che ha rifatto anche il vincenzo. e fea la gnappa, no? il caffè con la nina. e allora aveva mia nonna che diceva sempre che questa bisogna metterla via per i presenti bisogni. aveva arrivato 20 anni per capire che era i presenti bisogni per loro. ah, grande! il che era il banco, il che era una colpetta alla nina. alla nina. ma lei era per i presenti bisogni. hai capito a 18 o 20 anni che lei era sempre presente i bisogni? bellissima.